Alessio Curcio, una gran serata, Vicenza vince, ha vinto bene, tu hai anche segnato e hai fatto anche l'assist. Sì, siamo contenti perché per noi era importantissimo superare il turno e quindi per il risultato siamo molto contenti, poi con l'assist è una bella soddisfazione. Stessa domanda che ho fatto al mister, di che cosa sei più contento di questa serata dal punto di vista della squadra? Del passaggio del turno innanzitutto e poi del fatto che comunque abbiamo, secondo me, ritrovato un po' quella voglia di divertirci, di giocare a calcio, lasciando stare un po' il periodo e tutto, quindi mettendo da parte quelle che potevano essere le preoccupazioni, le ansie e pensare a giocare a calcio. Perché si è visto subito, fin dall'inizio, una certa tranquillità. Merito del mister? Sì, è merito suo, è merito nostro, ci siamo parlati, è merito un po' di tutti, nel senso che diciamo che l'analisi fatta era questa, di cercare di tornare a giocare un po', a divertirsi. Vister ha detto che ti ha trovato meglio di come ti aveva lasciato, è così? Soprattutto perché? Non lo so, dovresti chiederlo a lui, però sto bene, sono molto più scattante, mi sento meglio anche fisicamente, sto meglio. I quattro gol che hai segnato fino adesso, due sono tre in Coppa, sarebbe da aumentare il bottino in campionato? Sarebbe una bella, è un obiettivo, vediamo di riuscirci, di farlo il prima possibile, di risbloccarsi. Sarebbe una bella soddisfazione, ma a prescindere dal fatto che io segno o no, l'importante è che si continui ad avere questo tipo di mentalità, questo tipo di voglia di tornare a giocare a calcio e divertirsi, perché alla fine è quello che ci può portare più avanti possibile. La bietre che si è un po' surriscaldato, la curva che si è fatta sentire, vi è servita? Sì, ma loro sin dall'inizio ci sono sempre stati vicino ed è giusto pure che con il loro modo, anche quando le cose non vanno bene, dimostrano comunque attaccamento, quindi in un modo o nell'altro sono comunque cose secondo me positive, nel senso che anche quando le cose vanno male è molto meglio avere chi ti sprona che chi invece fa finta di nulla. Grazie.